... Riparte l'ITR in 40, tornano al lavoro, concluso il passaggio di consegne con la vecchia società, l'azienda si è rimessa in moto, l'obiettivo ora è di aumentare le assunzioni. È arrivato in Molise il treno dell'Unitalsi, a termoli vagoni provenienti da Lourdes, deviati dopo l'alluvione che ha colpito la Costa Azzurra, stanchi per il ritardo, ma nessun problema ai passeggeri. Su Piazza Pepe non si torna indietro, lo ha ribadito il sindaco Antonio Battista, l'isola pedonale non si tocca, il comune di Campobasso pensa a una deroga per i disabili. Fornelli non dimentica l'eccidio nazista, la rappresaglia dei tedeschi colpì anche il piccolo comune alle porte di Isernia. Il 4 ottobre del 43 il Podestà e altre 5 persone furono uccise a Castel Cervaro. Campobasso affondato anche a Teramo, ancora una prestazione opaca dei rosso-blu sconfitti dal San Nicolò. Tifosi contestano, l'Agnone batte l'Isernia con una doppietta di yellow e si aggiudica il derby. Buon pomeriggio e ben trovati all'appuntamento delle 14 del nostro telegiornale, primo della settimana. Parliamo in apertura di una notizia che molti attendevano, soprattutto nella zona di Isernia e soprattutto all'interno della ITR. Parliamo della fabbrica più importante del settore tessile e forse non solo della provincia che è tornata a produrre. Una notizia attesa da tante persone, al momento 40 sono tornate a lavorare. L'obiettivo, dicono, nella fabbrica è quello di ampliare il numero delle assunzioni, ma intanto sentiamo le novità da Sergio Di Vincenzo. La ITR ha riaperto i suoi cancelli. Dopo l'odissea delle gestioni bianche e rosati, grazie all'acquisizione da parte dell'IKF, la storica azienda di Pettoranello prova a rimettersi in marcia sul serio, stavolta senza illudere nessuno con facili promesse. Nella nuova azienda, la fabbrica è riunite, dallo scorso weekend hanno cominciato a lavorare 40 persone. L'obiettivo dei nuovi vertici è quello di cominciare a operare a pieno regime nel giro di due o tre mesi. Certo, 40 dipendenti rispetto ai circa 700 degli anni d'oro sono pochi, ma la nuova sfida lanciata da IKF rappresenta comunque una fiammella di speranze in una provincia che un giorno sì e l'altro pure assiste impotente alla chiusura di imprese e attività commerciali. Per ora si è solo nella fase di rodaggio, ma l'obiettivo nel medio e lungo termine resta quello di acquisire il maggior numero possibile di licenze, incrementando di pari passo il numero delle persone assunte. Una spinta da questo punto di vista potrebbe arrivare dal riconoscimento dell'area di crisi. Nel frattempo si prova ad allungare di qualche mese la cassa integrazione alle circa 200 persone che inevitabilmente sono rimaste fuori dalla nuova ETR, ma l'ipotesi che venga dato il via libera a una proroga è remota, poiché la vecchia società è in liquidazione. Per loro ci sono comunque due anni di immobilità e la speranza che la loro professionalità prima o poi torni utile alla nuova azienda. Intanto oltre 200 capi di abbigliamento firmati, ma evidentemente falsi e privi di documenti fiscali, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Isernia ad un ambulante campano nel corso del mercato che si svolge nel fine settimana. Il valore commerciale è di circa 5 mila euro. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e introduzione di commercio di prodotti falsi. Nell'ambito dell'inchiesta sulle cosiddette spese pazze dei gruppi consigliari, la Regione ha chiesto alle sei persone individuate in questa prima fase un risarcimento di 570 mila euro. La Regione, nel dettaglio, attraverso il proprio legale, chiederà durante il processo una provvisionale di 300 mila euro per Michele Picciano, 100 mila euro per Enrico Gentile, 60 mila per Luigi Pardo Terzano, 50 mila per Sabrina De Camillis e Michelangelo Bonomolo e di 10 mila euro invece per Francesco Di Falco. A questi politici viene contestato il reato di peculato e agli atti della vicenda giudiziaria ci sono gli acquisti fatti tra il 2006 e il 2011 con i soldi dei gruppi di Palazzo Moffa. Andiamo a Disernia ora dove scaldano i motori quelli di 5 Stelle. Praticamente tutti i partiti politici sono comunque in moto per via della imminente campagna elettorale. Ormai dopo la crisi della Giunta Brasiello, il Movimento 5 Stelle ha incontrato i cittadini sull'Egam, dunque il primo argomento quello dell'acqua pubblica, ce ne parla in questo servizio Enzo Di Gaetano. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di puntare su Isernia, l'ambizione nascosta ma non troppo di Antonio Federico e Patrizia Manzo e quella di far diventare Isernia la prima città del Molise a guida grillina. Ma per centrare questo obiettivo occorre coltivare oltre che speranze anche una classe dirigente fatta di cittadini che vogliano impegnarsi in prima persona per salvare Isernia dal degrado e dall'abbandono a cui l'hanno condannata i fallimenti a ripetizione di centrodestra e centrosinistra. Isernia come Parma o come Messina o ancora come Livorno, capologhi di provincia apparimenti indignati con centrodestra e centrosinistra che hanno scelto di eleggere un sindaco 5 Stelle. È possibile una cosa del genere, una tale rivoluzione culturale e politica nel capologo Pentro dove, come ha detto Antonio Federico, comandano famiglie e clan che ad ogni tornata elettorale riempiono le loro riste di disoccupati. Chissà, i 5 Stelle ci credono e chiedono agli Isernini un sussulto di dignità. Sicuramente la presenza del Movimento 5 Stelle a Isernia c'è stata in questi anni, c'è stato con un gruppo che ha portato avanti anche le iniziative che portiamo avanti in Regione e negli altri comuni dove siamo presenti, Campobasso e Termoli in primis. Però questa deve essere un'occasione troppo importante perché la città di Isernia merita qualcosa di diverso e dobbiamo dimostrare con incontri come questi e con i fatti che noi siamo in grado di governare, non siamo più la protesta, chi urla, siamo persone che sono in grado di governare e amministrare perché è su questo che poi cadono anche gli altri, non hanno un'idea da portare avanti e quello che è successo con l'amministrazione Brasiello dimostra proprio questo, l'inconsistenza di una accozzaglia di liste che si ritrovano insieme e che di fatto hanno poco da spartirsi dal punto di vista politico. Campobasso vive la stessa situazione con consigli comunali che non raggiungono i numeri illegali e vengono rinviati anche su temi importanti. Quindi portiamo avanti un'idea, facciamo vedere ai cittadini di Isernia in primis ma anche a tutti quelli che si sono succediti nelle amministrazioni che noi un'idea ce l'abbiamo e è su questo che dobbiamo far capire a Isernia che il Movimento 5 Stelle può essere davvero un'occasione e devono essere gli Isernini a mettersi in prima fila. Ecco, mi sembra chiaramente un appello agli Isernini perché poi le idee ci sono ma camminano sulle gambe degli uomini. Alla fine bisogna trovarli questi 5 Stelle Isernini? Assolutamente sì e per questo questo incontro sarà il primo di una lunga serie che dovremo fare qui a Isernia come ad Agnone, a Boiano dove ci sono note delle tornate importanti perché sono i cittadini come siamo io e Patrizia Manzo in Consiglio regionale ma anche tutti quelli che sono in Parlamento e negli altri amministrazioni partiamo da così, partiamo dalla strada dai marciapite, dagli incontri anche carbonari se vogliamo e siamo arrivati in Consiglio regionale in Parlamento e dobbiamo arrivare anche nel Comune di Isernia ma non da opposizione ma da amministratori. Antonio Federico e Patrizia Manzo hanno anche organizzato a Isernia l'incontro per parlare della proposta dei grillini del Molise per la gestione dell'Egam. Tutti quanti parlano di acqua pubblica ovviamente a questo concetto bisogna dare seguito con i fatti l'acqua è pubblica non lo diciamo noi non lo dice il Governo regionale quello che fa la differenza è la gestione di questo bene pubblico che può essere privata pubblico privata o interamente pubblica noi chiediamo una gestione interamente pubblica ovviamente abbiamo previsto anche una forma di compensazione per quei comuni virtuosi che quindi hanno già fatto delle forme di investimento per ridurre le perdite del loro sistema idrico e quindi non far aumentare in maniera esponenziale le tariffe ai cittadini molisani. Andiamo a Campobasso per parlare di Piazza Pepe un argomento che ha tenuto banco per tantissimo tempo sono anni che si discute tra contrari e favorevoli all'isola pedonale dunque alla chiusura o all'apertura al traffico il sindaco Battista sembra aver voluto mettere ora la parola fine su questa vicenda indietro non si torna detto la situazione rimane quella che è ora cioè la piazza chiusa sentiamo Anna Maria Di Matteo Il sindaco di Campobasso ha messo la parola fine sulla destinazione di Piazza Pepe conosciuta anche come Piazza Prefettura sarà isola pedonale dunque chiusa al traffico pur tuttavia prevedendo alcune deroghe le deroghe in questione riguardano la farmacia di Toro che affaccia proprio sulla piazza i cui titolari hanno presentato ricorso al TAR contro la delibera della giunta comunale il provvedimento in questione è la delibera numero 28 del 10 febbraio scorso che disponeva la chiusura alla circolazione dell'intera piazza si del caso che i giudici amministrativi abbiano invitato il comune a rivedere il provvedimento in virtù delle motivazioni adotte dai legali dei farmacisti motivazioni legate alla tutela del diritto della salute di tutti i cittadini in particolare di quelli affetti da disabilità il sindaco Battista in conseguenza dell'ordinanza del TAR aveva promesso una soluzione ma nel frattempo i farmacisti sono tornati all'attacco accusando l'amministrazione comunale di fare orecchie da mercante critiche alle quali si sono aggiunte anche quelle dei commercianti della zona che hanno dichiarato di sentirsi presi in giro dal sindaco attacchi che Battista ha respinto al mittente con decisione come primo atto la sua giunta ha approvato la delibera a 185 del primo ottobre scorso che rettifica quella oggetto del ricorso abbiamo deciso di riservare due posti auto all'interno della piazza spiegato il sindaco ai mezzi in possesso del contrassegno per disabili in più ha aggiunto i fornitori della farmacia avranno la possibilità di entrare nella piazza per le operazioni di carico e scarico fin qui la risposta all'ordinanza del TAR sulla necessità di tutelare il diritto alla salute ma la richiesta dei commercianti di riaprire al traffico Piazza Pepe Battista è stato categorico è ora di finirla con questo tira e molla dichiarato in ogni città italiana del mondo esistono le isole pedonali qui a Campobasso siamo rimasti indietro di 20 anni Piazza Pepe è e continuerà ad essere chiusa al traffico con i commercianti si può discutere sulle iniziative per rilanciare l'intera zona o come abbellirla ma sulla decisione di riaprirla la circolazione ha concluso il sindaco non si torna indietro A Termoli invece discorso più ampio si è parlato di mezzogiorno di emergenze che riguardano le amministrazioni meridionali sentiamo la nostra redazione Al centro dell'incontro tenuto al porto turistico di Termoli il tema del declino socio-economico che ha colpito il Molise il mezzogiorno nell'ultimo decennio un dramma per le regioni meridionali scolpito nelle cifre dell'ultimo rapporto Svimez che ha parlato di un sud a rischio di sottosviluppo permanente per cercare di invertire la rotta attraverso delle proposte e delle soluzioni condivise associazioni sindacalisti amministratori locali e cittadini hanno aperto un cantiere di iniziative ricordando anche l'impegno del premier Renzi finora disatteso quello di presentare un master plan per il sud entro settembre tra le realtà che hanno aderito al tavolo di confronto ci sono tra le altre la fonte libera la libertà e giustizia la rinoviva lega ambiente ma anche la fondazione Lorenzo Milani eccetera cultura e società il forum della sinistra giovanile molisana l'arca sannita e molise 2020 le associazioni è stato detto non hanno la pretesa di dettare l'agenda della regione ma ritengono di poter chiedere ad alta voce una vera strategia per il superamento delle criticità in atto dalla necessità di spendere tutti i fondi della programmazione all'area di crisi gestita senza furbizie a un contratto di sviluppo per la clean economy attraverso un rilancio sostenibile del territorio e ancora la difesa della sanità le infrastrutture e i trasporti la tutela dell'acqua pubblica e altri temi che tutti possono proporre si è ora costituito un coordinamento che si doterà di un preciso piano di lavoro che si oppone anche a clientele e ogni forma di illegalità è in corso in queste ore l'autopsia sul corpo di Ion Sotu il romeno senza fissa dimora ucciso a bastonate ricorderete ritrovato in un rudere della contrada Padula a Montenero di Bisaccia l'uomo 46 anni sarebbe stato picchiato a morte da un suo connazionale dopo un litigio l'indagato si trova ancora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato il presunto assassino dopo le prime parziali ammissioni si è poi avvalso dalla facoltà di non rispondere adesso andiamo a Fornelli che come ogni anno il 4 ottobre ricorda l'eccidio nazista del 1943 quando i tedeschi lasciando la zona lasciarono sul terreno anche sei persone tra queste il potestà sentiamo Sergio Di Vincenzo impossibile cancellare dalla memoria quella terribile giornata di 72 anni fa quell'eccidio al solo pensiero farà brividire e ricorda tutti i livelli di follia e crudeltà che si possono raggiungere durante una guerra nella frazione di Castelcervaro l'esercito nazista giustiziò per impiccagione il podestà Giuseppe Laurelli e i suoi concittadini Giuseppe Vincenzo Castaldi Celestino e Domenico Lancellotta e Michele Petrarca avevano tentato di difendere un giovane che con una bomba a mano aveva ucciso un soldato tedesco ferendone altri due mentre faceva razzia fra i casolari secondo alcuni studiosi questo fu uno dei primissimi episodi della resistenza italiana ancora oggi ci sono testimoni diretti di quei giorni di terrore vissuti a Fornelli e il caso di Antonio Laurelli figlio del podestà furono giorni veramente tristi per tutti per tutti noi per la mia famiglia e anche per i fornellesi perché i tedeschi invadevano il territorio di Fornelli facevano razzie e quindi la cosa preoccupavano un poco mio padre insieme a altri cittadini di Fornelli cercò di organizzare una resistenza ai tedeschi e di fatto io si senti a riunioni che si tennero nello studio di mio padre e quale intervenne anche il prete come ogni anno i cittadini di Fornelli hanno voluto ricordare con una cerimonia il triste anniversario dopo la deposizione delle corone nel centro del paese in tanti hanno raggiunto la frazione Castelcervaro per assistere alla messa celebrata nella cappelletta costruita sul luogo dell'Eccidio intanto va avanti l'azione legale promossa dall'amministrazione comunale per chiedere risarcimento danni alla Germania a breve ci sarà la prima udienza in tribunale è stata intentata una causa risarcitoria nei confronti della Repubblica federale tedesca già in sede dibattimentale è stata riconosciuta la competenza del tribunale di Sernia per quanto riguarda l'oggetto stesso della causa ci sarà una prima udienza a breve e siamo fiduciosi nel buon esito se i giudici dovessero dare ragione al comune di Fornelli i soldi di risarcimento saranno impiegati così questo è già scritto nella delibera di incarico verranno utilizzati soltanto per realizzare opere pubbliche o quello che è necessario per tenere sempre viva la memoria dei nostri martiri è cominciata la terza edizione di Orti in festa la campagna nazionale di Lega Ambiente che promuove il lavoro della terra e la difesa del verde a Campobasso siamo stati con Silvia Valente nella casa di riposo Pistilli vediamo una giornata di festa ma anche un'occasione per riflettere su temi importanti come la difesa del territorio la tutela della biodiversità e l'educazione alimentare sono questi gli obiettivi di Orti in festa alla campagna di Lega Ambiente giunta alla terza edizione un progetto nazionale arrivato anche in Molise attraverso l'impegno del circolo Eugenio Cirese che in collaborazione con la casa di cura Pistilli di Campobasso ha dato vita ad un orto sociale adiacente alla clinica ad affiancare gli anziani nella lavorazione della terra sono stati i giovani a rischio e marginazione del Dipartimento di Giustizia Minorile che con il loro contributo hanno accresciuto il valore sociale dell'iniziativa favorendo il dialogo fra le generazioni Il progetto sull'Ascia l'Orto nasce grazie a un finanziamento della Chiesa Valdese con i fondi dell'8x1000 e nasce proprio per porre al centro di questa struttura l'Orto questo progetto si inserisce nel filone dell'agricoltura sociale l'Orto quindi diventa mezzo per integrazione sociale in questo modo gli anziani residenti in questa struttura hanno un impiego si sentono utili allo stesso tempo abbiamo coinvolto vari partner nel progetto quindi ci sono oltre alla casata per gli anziani abbiamo messo insieme l'Università degli Studi del Molise l'Ufficio per il Servizio Sociale dei Minori inoltre abbiamo coinvolto ovviamente come partner anche il Comune che ci ha messo a disposizione questo terreno Anche l'Università del Molise dunque fra i partner della manifestazione con il professor De Cristofaro docente di controllo biologico integrato che ha tenuto una lezione agli studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente del Capoluogo spiegando le buone pratiche nella lavorazione di un orto biologico le scuole rappresentano un destinatario importante di questo progetto come dimostra la borsa di studio assegnata ad una studentessa che ha seguito anziani e giovani impegnati a lavorare nell'orto ogni giorno c'è stato un anziano proprio della casa di riposo che comunque scendeva per rinnaffiare l'orto mattina e sera infatti molto spesso anche per la raccolta poi delle verdure degli ortaggi comunque ha partecipato insieme a noi non conta tanto il lavoro perché comunque stando tutti insieme passa anche velocemente l'ora che comunque stiamo qui a lavorare e quindi per questo comunque socializzare con persone che magari hanno problemi come un anziano così come dei ragazzi l'idea di poter riprendere in mano la lavorazione della terra che cosa può rappresentare per le generazioni più giovani vabbè io penso cioè essendo una studentessa di scienza e tecnologia agraria alla fine per me è proprio il punto di inizio questo cioè io un domani parto dalla terra per comunque creare magari il mio futuro e spero che molti giovani tornino appunto a fare questo tipo di mestiere e di prodotti biologici si è parlato anche a Campobasso nel corso di un'iniziativa che si è svolta in piazza Municipio di cui ci parla in questo servizio Marta Martino ha aderito anche il Molise alla Biodomenica che l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica ha indetto in tutta Italia il BIO scende in piazza per fare incontrare i produttori e i consumatori e a Campobasso in piazza Municipio banchi e stand dove i colori e i sapori di frutta pomodori legumi miele conserve olio e tanti altri prodotti vengono offerti con un unico slogan custodiamo biodiversità e coltiviamo inclusione integrazione e legalità questo per riassumere i temi di questa Biodomenica arrivata alla sedicesima edizione la biodiversità è la chiave per la sicurezza alimentare e bisogna ricordare quanto il BIO influisca sulla sua preservazione e sulla legalità dire biologico significa escludere l'utilizzo di prodotti chimici come fertilizzanti diserbanti insetticidi e anticrittogramici per la concimazione dei terreni per la lotta alle infestanti ai parassiti animali alle malattie delle piante inoltre attraverso la rotazione delle colture e l'utilizzo di sostanza organica si rispetta il terreno l'aria l'acqua e la salute degli agricoltori e quella dei consumatori secondo una ricerca dell'ISPRA nei terreni biologici è possibile rilevare un numero doppio di specie vegetali rispetto a quelli convenzionali fino a un 50% in più di ragni il 60% in più di uccelli e il 75% in più di pipistrelli ma come si sposa il tema dell'agricoltura biologica con quello della legalità facile dice l'associazione i lavoratori stranieri costituiscono infatti almeno il 20% della mano d'opera impiegata alcuni fanno parte più o meno stabilmente delle imprese agricole fino a diventare imprenditori altri spariscono nel nulla perché dopo essere stati oggetto di sfruttamento e di razzismo quando si ribellano rischiano di essere identificati e se privi di documenti validi espulsi le aziende che praticano il metodo di agricoltura biologica si giovano spesso della collaborazione di lavoratori stranieri ed è a questo che fa riferimento lo slogan festa nella chiesa e nel convento del sacro cuore per la ricorrenza di San Francesco a Campobasso processione e messa ma anche altre iniziative ce ne parla in questo servizio Valeria Farina è il santo dei poveri e della semplicità Francesco D'Assisi celebrato il 4 ottobre dalla chiesa cattolica è una delle figure più importanti della spiritualità cristiana aiutare i bisognosi vivendo con umiltà sono i pilastri dell'ordine francescano in questo modo anche il convento del sacro cuore di Gesù di Campobasso in occasione del 4 ottobre giorno in cui si festeggia San Francesco ha indetto celebrazioni solenni per noi italiani è una grande festa che ci fa ritrovare attorno a questo uomo che poi non è semplicemente amato dal popolo italiano o dal popolo cristiano ma amato da ogni uomo perché io direi che è stato l'uomo del dialogo che nella sua semplicità e nella sua letizia ha saputo testimoniare questa presenza di Dio ovunque e verso qualunque creatura avere Francesco come patrono d'Italia significa mettersi al servizio degli ultimi dei poveri perché siamo chiamati a rendere ragione della nostra fede di una fede che sia coerente non un discorso di fede che parli di un dia astratto la fede si deve sporcare le mani abbiamo detto nei titoli di apertura del treno arrivato a Termoli dalla Francia partito da Lourdes poi interrotto in Costa Azzurra vedete le immagini che hanno fatto il giro del mondo per via dell'alluvione che ha colpito quella zona con morti e dispersi il treno è arrivato qualche minuto fa a Termoli e non ci sono stati problemi se non quello di un viaggio lunghissimo più lungo del previsto causato appunto come dicevamo dal ritardo ma i passeggeri i volontari e gli ammalati stanno bene a Termoli abbiamo anche una nostra troupe alla stazione non abbiamo dunque il tempo per farvi vedere ora il servizio realizzato alla stazione di Termoli però vi rimandiamo alle prossime edizioni del nostro telegiornale per le interviste e il racconto di quella che è stata una vera e propria odissea ma che insomma molto meno grave rispetto a quello che è accaduto invece ai cittadini della Costa Azzurra così gravemente colpiti dal maltempo ci fermiamo qui vi lascio alle previsioni del tempo e poi alla pagina sportiva noi ci vediamo alle 15 circa per gli aggiornamenti grazie e a più tardi grazie a tutti